Un posto al sole, spoiler, Lello riceve il Silvia non si fida più di Giancarlo. La sop opera Un posto al sole continua ad andare in onda su Rai 3 e, nei prossimi episodi. Gli equilibri si scombineranno ancora. Centrale sarà la situazione di Silvia che, nonostante i suoi tentativi di salvare il caffè Vulcano, sarà sul punto di finire sull'astrico. Non solo, i suoi sentimenti verso Michele la confonderanno sempre di più, a un aumentando la sua ansia. Come svelano le nuove anticipazioni Silvia capirà che Giancarlo non è affatto affidabile e come sembra e non si esclude che possa arrivare a una decisione sofferta ma inevitabile. Nel frattempo, arriva il giorno il cui Valsano riceve il verdetto del processo. La decisione del giudice, ancora ignota, spiazza tutti i presenti. Le conseguenze saranno inaspettate. Tanto che Alberto deciderà di cambiare studio legale, lasciando Nico solo. Nelle nuove puntate di Un posto al sole vedremo Silvia molto preoccupata per gli affari del caffè Vulcano. Il suo locale è in difficoltà e rischia la chiusura. A complicare le cose ha anche l'idea di Giancarlo, che si è dimostrato non essere affidabile. Tra problemi economici ed elusione per il compagno, Silvia entrerà in una profonda crisi. Le anticipazioni svelano che ci sarà maretta tra Silvia e Giancarlo, la cui storia d'amore potrebbe arrivare al capolinea. L'arrivo di Lara a Napoli con il piccolo Tommaso ha sconvolto gli equilibri di Roberto e Marina. Freschi di nozze Ferri è stato preso in contropiede, in quanto la furba Martinelli ha saputo perfettamente come risvegliare in lui i dolorosi ricordi per quel figlio perso proprio nel momento in cui aveva ricucito il rapporto. Marina e Roberto torneranno dal loro viaggio di nozze, ma la serenità durerà davvero poco, come è ben facile immaginare. Ferri capirà che Lara ha molto potere e che potrebbe rovinare il suo matrimonio con Marina. Grande attesa per il verdetto che determinerà le sorti di Lello Valsano, che potrebbe farla franca con la sua impeccabile difesa. Ciò che leggerà il giudice spiazzerà Nico e Viola, in seguito alla sentenza Alberto deciderà di lasciare studio legale Poggi, deluso e amareggiato. Infine, nelle nuove puntate di Un posto al sole tornerà Luca De Santis, che risveglierà in Giulia dolci ricordi. Luca riebraccerà i suoi amici di sempre e sarà pronto a prendere il posto da primario che Ornella ha rifiutato. Intrando di nuovo nelle trame di Upos dopo 30 anni di assenza. E beton după care il intind, si el devine tare in timp, ca așa-i betonul, underground 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul, si acum rap-ul e moda ornu, așa-i. Si zici ca stom fort, la cum ma comport, in treaba asta nu-i loc de confort, ricord si-o mor tot. Sunt un crucișător, lans în rachete aerosol, inca de cand el era broke si se uzat aerosol. De cand avea mall, de cand nu stiai ce un miscol, de cand ascultam gangsta rapper baza pe pistol. Daca nu intelegi textul, suna-o pe Irina Nistor, va intalniti in tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o sa mauzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari zintori. Ca știi ca după trimit ce-o canu mare, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia-n treaba ca...